Fratelli e sorelle nel Signore, oggi volevo parlarvi di un argomento che io ritengo molto importante, perché se capito questo tipo di argomento si riescono poi a comprendere determinate cose che riguardano il Signore. Il titolo dell'argomento di oggi è il senso delle cose di Dio e il senso delle cose degli uomini, cioè quello che noi troviamo scritto nella parola dobbiamo esaminarlo da un certo punto di vista, in una certa maniera. Ebbene, i punti di vista possono essere due, e sono quello il punto di vista umano, il punto di vista terreno, il punto di vista umano. Un altro punto di vista invece può essere quello lì, è quello di Dio, il punto di vista di Dio. Questi due punti di vista qualche volta possono uguagliarsi, possono essere visti, possono essere capiti, le cose esaminate dai due punti di vista, possono essere uguali. Altre volte invece si differenziano. Oggi andiamo a vedere determinati passaggi biblici che ci mostrano come il Dio dà un significato a determinate cose che può essere diverso da quello che gli uomini gli danno. E cominciamo appunto, cominciamo appunto a leggere quello che Gesù dice a Pietro. Matteo capitolo 16 dal versetto 21. Questi sono passaggi che sicuramente conoscete ma oggi li esaminiamo in questa maniera. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo, tolga ciò i Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù rivoltosi disse a Pietro, vattene via da me Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Infatti qui Gesù, vedete, Gesù dice che fa sapere, sei discepoli, glielo fa sapere anticipatamente, gli fa sapere che doveva andare a Gerusalemme e che avrebbe dovuto soffrire a cagione come Dio aveva stabilito, a motivo della volontà di Dio. Doveva soffrire, morire e il terzo giorno sarebbe risuscitato. Questo è l'Evangelo, questa è la buona notizia, questa è la buona novella che è per tutti coloro che vengono salvati, grazie a questa buona notizia, grazie a quello che Gesù Cristo ha fatto, che in quel momento raccontava ai suoi discepoli prima che avvenissero tali cose. Questo è l'Evangelo, la morte di Cristo e la sua risurrezione il terzo giorno, una morte violenta, una morte, diciamo, una sofferenza che Gesù ha passato e dopo il terzo giorno è risuscitato. Questo è il cuore dell'Evangelo. È in quel sacrificio che è stato compiuto affinché molte anime si convertissero a Dio, sarebbero salvati e purificati per mezzo dello spargimento del sangue di Cristo Gesù appunto nella croce. Ma questo era il messaggio, cioè era l'opera che Gesù Cristo è venuto, è venuto a fare sulla terra. È importantissimo. Però vedete questo era il piano di Dio che lo stava Gesù facendo conoscere ai suoi discepoli. Ma badate bene, Pietro, non avendo ancora compreso il piano di Dio, quindi vedendo le cose, diciamo, da un certo punto di vista che era il suo umano, di affetto umano, vedete qui c'entrano gli affetti, gli affetti umani, che talvolta possono essere sbagliati. E qui Pietro gli dice, Pietro gli dice a Gesù, tolga cioè Dio, vedete, invoca pure Dio, dice che Dio non permetta ciò, ma se Gesù era venuto a fare quello. Però Pietro non l'aveva inteso, non aveva, non vedeva quella morte di Cristo, quella sofferenza secondo il senso delle cose di Dio, vedete? Ma le vedeva con il senso dell'uomo, cioè degli affetti umani, secondo il suo modo di vedere, secondo il suo punto di vista, che badate bene non era un punto di vista cattivo, sbagliato dal punto di vista umano, cioè voleva il bene di Gesù, Pietro voleva che non gli avvenisse alcun male, infatti lo dice, questo non ti avverrà mai, tolga cioè Dio, cioè che lui non avrebbe sofferto e non sarebbe morto. Questo era il punto di vista dell'uomo. Io vi dico queste cose, fratelli, vi faccio capire queste cose, vi comunico queste cose affinché voi comprendiate che quando parliamo di determinate cose alcuni non le capiscono, perché le guardano da un punto di vista sbagliato, il loro punto di vista, il punto di vista della sua denominazione, il punto di vista del suo pastore, del suo predicatore preferito, del suo libro, del suo commentario diciamo di cui si serve del continuo. Ecco, guardando le cose della parola di Dio attraverso un punto di vista che è sbagliato, che è sbagliato, non si arriva a comprendere le cose che riguardano le verità di Dio in maniera corretta. Quindi è importante quando ci approcciamo a studiare la parola di Dio, determinati versetti, dobbiamo domandarci ma sto comprendendo dal punto di vista esatto, corretto, da quel punto di vista di Dio, dalla volontà di Dio? Sto guardando queste cose secondo la volontà di Dio e non secondo la mia volontà o la volontà umana? Quindi dobbiamo domandarci queste cose, perché ci sono a volte delle cose che vanno viste sotto un punto di vista umano e altre cose che vanno viste sotto il punto di vista di Dio, secondo il senso delle cose di Dio. Distinguendo queste due cose noi comprenderemo tanti passaggi della scrittura che altrimenti sarebbero oscure, dopo andremo anche a ricordare. Quindi vedete abbiamo visto quindi che Gesù annunciava quello che doveva accadergli e Pietro rispose contrariamente, perché? Perché Gesù gli disse, lo ammonì anche se veramente, gli disse tu mi sei di scandalo, tu non hai, vattene via da me Satana, vedete come lo chiama? Come lo definisce? Come lo allontana da sé? Lo allontana in questa maniera, perché quello che Pietro disse dal punto di vista umano, che in questo caso era sbagliato, perché era contrario, era contrario al punto di vista di Dio, era contrario alla volontà di Dio, al piano di Dio, al disegno che Dio aveva preparato. Era un piano, era un parlare contro la volontà di Dio e giustamente, giustamente anche se era mosso da una pietà e da una misericordia umana, ma era comunque, giungeva comunque ad una conclusione che era sbagliata ed era contraria alla volontà di Dio. E' per questo che Gesù lo ha ammonito. Cosa dobbiamo prendere noi da questo passaggio? Dobbiamo capire che Pietro, dal suo punto di vista, non aveva ancora capito il piano di Dio e non aveva una veduta completa, completa del piano di Dio. Aveva conosciuto il maestro, aveva visto che in lui c'era la vita, aveva creduto, perché poco prima ha dato una buona testimonianza dicendo appunto, appunto, tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Vedete, al versetto 16, 16. Cioè fa una bella testimonianza perché Pietro aveva creduto in Gesù, ma ignorava il piano di Dio. Lo ignorava, non lo comprendeva, non l'aveva inteso e quindi di conseguenza parlava in questa maniera. Parlava in una maniera, ha reagito alle parole di Gesù in una tale maniera che era contraria alla volontà di Dio. E' per questo che Gesù l'ha ammonito e noi da questo comprendiamo che talvolta il nostro buonismo, il nostro vedere le cose, in una certa maniera dal nostro punto di vista, sembrerebbe buono, sembra buono e positivo per l'altro, per l'altra persona, per dire. Ma non è secondo la volontà di Dio e quindi quello che conta per noi, la cosa più importante, che noi ci applichiamo e ci sforziamo per comprendere qual è la volontà di Dio. Capite? Cioè il nostro obiettivo non è quello di capire io qual è il mio punto di vista, che cosa conta, qual è il mio punto di vista, qual è il punto di vista dell'uomo etterreno, a che cosa importa nelle verità divine eterne. Capite? Io devo capire, ma devo capire principalmente qual è il punto di vista di Dio, qual è, che cosa devo capire del pensiero di Dio, dei disegni che Dio ha formato per l'uomo, per la terra, per il suo popolo. Devo capire questo, quindi devo sapere, innanzitutto bisogna sapere che ci sono questi due punti di vista. Quindi quando approcciamo allo studio delle scritture consideriamo anche questa esistenza di questi due punti di vista, il punto di vista di Dio e il punto di vista dell'uomo, in maniera che noi ci domandiamo, ma come lo sto esaminando, come lo sto comprendendo io questo? Da un punto di vista esatto e corretto, oppure da un punto di vista che è solo mio, umano, che può essere sbagliato e non corrisponda quindi alla volontà di Dio. Queste sono le domande che quando studiamo ci dobbiamo porre. Adesso andiamo sempre per esaminare due punti di vista, sempre due punti di vista che è sempre uno umano e l'altro è divino, l'altro è da parte di Dio. Andiamo a leggere il Salmo 73. Il Salmo 73 è un Salmo di Asaf che dice queste parole. Certo, il Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanti a me quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero. Poiché io portavo invidia agli orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e pingue, non sono travagliati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge a guisa di collana, la violenza li cuopre a guisa di vestito. Dal loro cuore insensibile esce l'iniquità, le immaginazioni del cuor loro traboccano, sbefeggiano e malvagiamente ragionano di opprimere, parlano altezzosamente, mettono la loro bocca nel cielo e la loro lingua passeggia per la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte e beve copiosamente alla loro sorgente. E dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono i loro averi. In vano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono percosso ogni giorno e il mio castigo si rinnova ogni mattino. Se avessi detto parlerò a quel modo, ecco sarei stato infedele alla schiatta dei tuoi figlioli. Ho voluto riflettere per intendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio, e non ho considerata la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono stati distrutti in un momento, portati via, consumati per casi spaventevoli. Come avviene di un sogno quando uno si sveglia, così tu, oh Signore, quando ti desterai, sprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore si ennacerbiva, ed io mi sentivo trafitto internamente. Ero insensato e senza conoscimento, io ero verso di te come una bestia. Fino a qui, il Salmo 73, la parte che ci riguarda. Praticamente questo è qualcosa che magari alcuni di noi hanno anche vissuto, cioè andiamo a vedere, a vedere che gli empi prosperano, no? Qui Asaf, Asaf cosa aveva fatto? Dove stava per sbagliare Asaf? Che aveva buttato l'occhio sui perversi, sui malvagi, sugli empi. Aveva cominciato a guardare gli empi e aveva cominciato, era cominciato a stare male, aveva cominciato a pensare male del Signore. Infatti, infatti, vedete, al versetto 11 dice, come è possibile che Dio sappia ogni cosa che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Cioè, cominciava a farsi questa domanda. Cioè, si domandava, ma perché prosperano gli empi? Se Dio esiste, se esiste una giustizia divina, per quale motivo prosperano gli empi? Mentre lui, che si sentiva giusto, che viveva una vita giusta, che purificava la sua vita, che si santificava, ecco che soffriva, passava delle sofferenze, viveva delle sofferenze, dei turbamenti e altre cose che lui, guardando con i suoi occhi dal punto di vista umano, pensava, vedeva che gli empi invece non passavano, non passavano le sue stesse sofferenze. E questo stava turbando il suo cuore, come c'è scritto nel versetto 21, il suo cuore si inaccerbiva, mi sentivo trafitto internamente, infatti molte volte uno guardando agli altri vede che all'altro gli va tutto bene e si può sentire male. Ma come? Ma quello è sviato di cuore. Quello dice di essere credente si è sviato, si è allontanato dalla verità, non si santifica, non digiuna, non prega, non legge le scritture, non conosce nulla, eppure lo vediamo prosperare. Ebbene, queste persone, vero, prosperano. L'errore di colui che invece si sta santificando è quello di sentire appunto questo dolore, questo di trafiggersi, di sentirsi trafitto internamente, come accadeva ad Asaf. Stava per sdrucciolare, perché questi sentimenti negativi che erano nati in lui, che stavano per farlo sbagliare, cioè stava, era in un punto, diciamo che queste cose erano arrivate in un punto in lui che stavano per traboccare in un grave errore. Stava, come dice il versetto 15, se avessi detto parlerò a quel modo, quindi erano cose che lui aveva interiormente e stava giungendo in un punto in cui stava per sbottare, cioè stava per dirla a tutti, detto ma non è possibile, se il Dio esistesse, se il Dio fosse giusto, non permetterebbe tutte queste cose. Che l'empio prosperi e invece i giusti soffrono. Stava arrivando a quel punto. Questa era la situazione, questa è una situazione che magari molti tra i santi possono sentire dentro il loro cuore, cioè vedere gli empi che prosperano, facciamo un esempio. Ci sono delle denominazioni che aumentano di numero, hanno delle pastoresse che predicano e queste comunità crescono di numero e noi ci domandiamo, magari ci possiamo domandare, qualcuno si può domandare e dire ma come fanno a prosperare, ad aumentare di numero, ad aumentare denari, a costruire locali, ma Dio allora li sta benedicendo. La scrittura dice una cosa, questi ne fanno un'altra eppure Dio apparentemente sembra che li stia benedicendo. Ebbene, questi sono pensieri umani, solo ed esclusivamente umani, perché a noi ci sfugge una cosa molto importante, il punto di vista di Dio. Perché qui la maggior parte del Salmo 73 abbiamo visto, abbiamo letto che le questioni sono state viste sotto il punto di vista umano, quello dell'uomo, quello di Asaf. E anche noi oggi quando vediamo l'empio prosperare, vedete, al versetto 10 c'è scritto, perciò il popolo si volge dalla loro parte, cioè si li vede che sono diciamo un'organizzazione piena di soldi, sempre vestiti eleganti, grandi locali di culto, lo Stato li ha riconosciuti come un ente morale, li riconosce, vengono riconosciuti da tutti, non vengono mai chiamati setta, invece noi poverini, che non abbiamo neanche un locale di culto, veniamo chiamati setta, ma questi si riuniscono nelle case, ma chi sono, ma non esistono neanche, ma questi sono empi, questo è quello che l'occhio umano vede, queste sono le considerazioni che fanno gli uomini, questo è il punto di vista dell'uomo. Ma guardate cosa dice qui, vi ricordo quello che vi ho appena letto, che dice Asaf, al versetto 16, ho voluto riflettere, vedete, per intendere questo. Questa è una faccenda molto importante fratelli, oltre al fatto di considerare i due punto di vista, ma effettivamente avviene qui, molti fratelli purtroppo si addolorano perché vedono altri che prosperano e non si santificano e non fanno la volontà di Dio. Ebbene fratelli, non si devono addolorare questi fratelli che si santificano, perché questi fratelli devono conoscere cosa dice la parola, cosa dice Asaf? Asaf dice queste parole, ho voluto riflettere, quindi ci vuole una certa applicazione per capire le cose. E guardate come arriva alla conclusione corretta di tutta la faccenda. Dice, la cosa mi è parsa molto ardua, naturalmente, perché certe cose, comprenderle, per noi uomini, dal punto di vista umano, diventa difficilissimo, a volte impossibile. Se noi vogliamo arrivare a delle conclusioni, a spiegare determinate cose, umanamente, con la nostra mente, con la nostra ragione, ma non ci riusciremo mai. Ci dobbiamo sempre rivolgere a Dio, dobbiamo sempre invocare Dio e andare alla parola, perché è nella parola che noi troviamo ogni tipo di risposta. E qui dice, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché, vedete quando arriva la soluzione, la soluzione a tutto quello che Asaf stava pensando e stava passando, arriva in questo momento. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerata la fine di costoro. Qui Asaf sta dicendo che ha risolto, ha riflettuto e il problema è stato risolto quando? Quando lui si è messo dal punto di vista di Dio, perché il santuario di Dio non rappresenta altro, cioè non è che materialmente lui è andato e si è innalzato fisicamente alla presenza di Dio. Può essere andato al santuario, può essere andato al tempio di Dio, può essere andato a lodare Dio nel suo tempio, ha riflettuto e Dio gli ha dato la soluzione, gli ha dato la risposta. La risposta è questa, che dal punto di vista di Dio, considerando la fine, la fine di costoro, la fine della scrittura lo dichiara chiaramente. La fine di che cosa dice la scrittura dal punto di vista finale? Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, va bene? E dice anche che gli empi andranno in perdizione, quindi la fine degli empi era la perdizione, il tormento eterno. Mentre i santi, anche se hanno sofferto tutta la vita, non avevano di che mangiare in abbondanza, sono stati afflitti, perseguitati, maltrattati da tutti, disprezzati, ma alla fine cosa succede? Alla fine succede che sono salvati. Ma vi ricordate cosa dice? Adesso andiamo in Luca per pensare ai beni e ai mali, mi sembra che è in Luca 16 dove si parla del ricco e di Lazzaro, no? C'era il ricco che ha vissuto splendidamente, va bene? E Lazzaro era la porta del ricco che voleva mangiare le briccioli di pane del ricco, va bene? Così hanno vissuto la loro vita. Cioè guardando durante la vita uno diceva, ma guarda un po', Lazzaro che invoca il Dio, no? Una persona semplice, una persona che vuole fare la volontà di Dio, era pieno di piaghe, non aveva di che mangiare, quindi guardandolo da questo punto di vista vedevamo una cosa che poteva apparire ingiusta davanti a Dio, no? Umanamente parlando, dal punto di vista basso quello umano. Però guardate dal punto di vista del santuario che diceva Asaf. Alla fine guardate cosa dice Abramo di quei due. Dice figliolo, al versetto 16-25 di Luca, ma Abramo disse, figliolo ricordati, sta parlando al ricco, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevete i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei ritormentato. Vedete? Quindi se si guardano, se si guarda alla fine di una cosa, si vede, se si guardano le cose, le faccende, i fatti, le persone, le condotte, i ragionamenti dal punto di vista di Dio, si possono vedere e capire delle cose diversamente se uno rimane bloccato e fermo a guardare le cose dal punto di vista dell'uomo, dal punto di vista colloquio umano. Capite? Noi dobbiamo imparare a discernere, certo non che dobbiamo abbandonare di vedere le cose dal punto di vista umano, perché ci sono cose che vanno viste dal punto di vista dell'uomo. Ci sono altre cose invece che vanno comprese, che vanno capite guardando dal santuario di Dio, dal punto di vista di Dio. Solo così si possono capire determinate cose. Facciamo un esempio, ad esempio la predestinazione, la predestinazione, alcuni vanno completamente in palla, c'è scritto nella parola la predestinazione, ma non riescono a conciliare determinati passaggi biblici. Ma perché devo evangelizzare se Dio ha già predestinato chi deve essere salvato? Capite? Perché questo? Allora, il Dio nella sua volontà, nel suo santuario, ha già predeterminato chi vuole salvare. L'ha già stabilito, questa è una parte che riguarda vedere le cose dal punto di vista di Dio. Ma dal punto di vista nostro umano che ci riguarda, che cosa è scritto per noi? È scritto per noi di annunziare l'Evangelo a tutte le genti, ci è comandato. Quindi dal nostro punto di vista noi da Dio riceviamo questi ordini. Quindi vedendo dal nostro punto di vista, che è corretto in questo caso, dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutte le genti, perché non sappiamo chi è predestinato e chi non lo è. Non lo sappiamo. Allora cosa ha stabilito il Dio? O ci diceva quelli che sono predestinati e quindi annunziavamo l'Evangelo a colpo sicuro, ma non è, non avviene così, o meglio, non sempre avviene così, perché ci sono casi in cui Dio ti parla, no? E ti dice vai a evangelizzare tizio, caio, come ho fatto con Pietro, di andare a evangelizzare Cornelio e tutta la sua casa, è lì, è lì. O come il Dio, ha fatto andare sulla via deserta, Filippo, l'Evangelista, a parlare all'Eunuco, capite? Cioè quando il Dio ti muove in una certa maniera, allora vai sicuro. Però in altre maniere, quando sei tu, no? Che Dio non ti ha dato un ordine specifico, vai ad annunziare l'Evangelo, puoi annunziarlo a tutte le genti, cioè non è che stai sbagliando, biblicamente è possibile annunziare l'Evangelo a tutte le genti. Però quello che dobbiamo sapere, questo è il punto di vista che è nostro, umano, quindi dobbiamo santificarci e dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutti. Ma dal punto di vista di Dio, se noi parliamo, ma chi è che viene salvato? E qui dobbiamo esaminare le cose non più dal nostro punto di vista umano, ma dobbiamo elevarci al punto di vista di Dio, dobbiamo guardare dal santuario di Dio le cose secondo il senso che Dio ci ha dato nelle Sacre Scritture, perché attraverso le Sacre Scritture il Signore ci ha fatto sapere attraverso la parola che il Dio ha già stabilito prima della fondazione del mondo e li ha scritti in un libro, nel libro della vita, coloro che lui avrebbe salvato. colui che lui vuole, coloro che lui avrebbe salvato. Quindi chiamati e poi fatti nascere di nuovo. E questo ce l'ha fatto sapere, ma questa è una mera conoscenza che noi abbiamo quindi, da un punto di vista di Dio abbiamo la conoscenza che saranno salvati solo quelli che Dio ha stabilito e che ha scritto nel libro della vita. Ma dal nostro punto di vista, quando la scrittura ci dice voi dovete evangelizzare, annunziare l'Evangelo a tutte le genti, lì siamo nel nostro punto di vista, non sapendo quali sono le persone che Dio ha scritto nel libro della vita, ci è ordinato di annunziare l'Evangelo a tutte le genti. Vedete come si spiega? Vedete perché è importante considerare anche questi due punti di vista, vedete, il senso guardare, esaminare, comprendere determinate dottrine, determinati fatti, secondo il senso delle cose di Dio. Comprendere dal punto di vista di Dio. E poi bisogna comprendere determinate cose dal punto di vista umano. Quindi vedete, quindi non è che il punto di vista umano non deve essere mai considerato, cioè noi dobbiamo tenere conto quando il punto di vista dell'uomo in una certa verità dottrinale va tenuto come giusto e fino a che punto le considerazioni dal punto di vista dell'uomo possono essere considerate valide. Cioè io confondendo tutte le cose comincio a dire, no, se io non tengo conto di queste due, di questa differenza del senso delle cose, comincio a dire, ma perché devo evangelizzare se Dio li ha già stabiliti quelli che lui salva? Capite? Qui è perché non hanno il senso corretto delle cose di Dio. Cominciano a parlare a vambera, cominciano a parlare in maniera inutile. La scrittura dice questo e dice anche quello. La scrittura dice che Dio ha già stabilito, secondo il suo beneplacito, i vasi costruiti, creati per la gloria. Ma dice anche la scrittura che Dio ha preparato già i vasi per la perdizione, li ha già preparati, sono già stabiliti. Ma questo riguarda il punto di vista di Dio. È Dio che opera in questa maniera. È Dio, quindi noi dobbiamo comprendere queste cose secondo il pensiero di Dio. Cioè noi in questo caso stiamo comprendendo e stiamo aprendo la nostra mente e il nostro cuore ai pensieri di Dio, quello che Dio ha stabilito, ai disegni che Dio ha già stabilito. È fermato. Mentre altri passaggi delle sacre scritture, come li devo esaminare? Ma se la scrittura mi ordina, va bene, di annunziare l'Evangelo a tutti, che devo fare? Questo non lo devo considerare perché ho considerato quello prima che tanto Dio, quelli che deve salvare, li salva? Questi sono altri passaggi biblici. Che cosa riguardano? Riguardano noi, uomini, credenti. Il nostro punto di vista, cosa Dio ci ha ordinato di fare? Così Dio ha stabilito e così noi dobbiamo fare. Quindi vedete, ci sono passaggi delle sacre scritture che ci fanno sapere determinate cose. Ci fanno sapere quello che Dio ha preordinato, quello che Dio ha già stabilito. Ma ci sono altre cose che il Signore ci fa sapere, che ci ordina di fare. Poi possiamo anche non comprendere fino in fondo, va bene? Possiamo accettare anche questo. Possiamo anche non comprendere fino in fondo perché il Dio ha stabilito che anche se lui ha già deciso chi salvare, dobbiamo comunque annunziare l'Evangelo a tutti. Però ricordiamoci che a questo punto c'è scritto, leggiamo, nel discorso che Gesù ha fatto a Nicodemo, tra le varie cose sulla nuova nascita, chi non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio, chi non nasce d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Tra le varie cose che Gesù dice a Nicodemo ci sono anche queste, che ora andiamo a leggere capitolo 3 di Giovanni, che dice queste cose, 3, 12. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Cosa vuol dire questo? Ci sono delle cose che Dio ci ha fatto sapere, ma noi non le comprendiamo fino in fondo, non le comprendiamo appieno. La mente di Dio che è nel Terzo Cielo, che è nei Cieli, è qualcosa, i pensieri di Dio, la mente di Dio, i disegni di Dio fanno parte della sua personalità, sono lassù, sono tanto più inalti di noi, sono cose celesti, sono difficili talvolta per noi da capire. Possiamo anche non capirle appieno. Io personalmente, vi faccio un esempio, non riesco a capire come dal nulla, dal nulla assoluto, Dio abbia potuto fare tutto l'universo, capite? Io non riesco a capirlo nella mia mente come dal nulla creare tutto. Non ci arrivo, lo credo, lo credo in maniera assoluta, inamovibile, ma non lo capisco fino in fondo. Ma questo perché? Perché è chiaro perché? Perché ci sono delle cose che sono celesti, sono delle cose che sono molto più inalte della nostra capacità di capire. Quindi sono così inalto che noi non riusciamo a comprenderle. Quelle che riusciamo a comprendere perfettamente, gloria a Dio, ringraziamo il Signore, ma ce ne sono altre che dobbiamo obbedire o credere senza comprendere. Per fede, per fede le crediamo, perché la fede è dimostrazione di cose che non si vedono, capite? Non è solo certezza di cose che si sperano, ma è anche dimostrazione di cose che non si vedono. Cioè, per me è una cosa dimostrata, certa, che Dio ha fatto i cieli e la terra dal nulla, senza partire da un qualcosa già. Quindi è una cosa dimostrata e io ho fiducia in questo, che Dio ha creato ogni cosa. Quindi vedete, il punto di vista celeste, il punto di vista di Dio, talvolta ci è, non ci è perfettamente comprensibile e facilmente applicabile al punto di vista umano. Però ci dobbiamo sforzare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fermarci, perché se Dio ci dice sia questo che quello, se Dio ci dice ho già stabilito che devo salvare e poi ci dice a tutti andate a evangelizzare. E noi, noi dobbiamo obbedire, è questo che dobbiamo fare. Poi possiamo non capire, diciamo, in maniera completa, possiamo non capire per quale motivo Dio fa così. Però un giorno lo sapremo. Per adesso dobbiamo, chi non comprende, può esserci chi comprende, può esserci chi non comprende. Allora, intanto è scritto così. Comunque sia, se capisci oppure no, se sta scritto così che tu devi andare ad annunziare l'Evangelo a tutte le genti, tu lo devi fare, tu ti devi santificare. Se c'è scritto di esortarci gli uni gli altri a pregare, a cantare a Dio, a rendere il culto a Dio, a dargli gloria, a santificarci, a fare il bene e a riprenderci se facciamo il male, il Dio ce l'ha ordinato, lo dobbiamo fare. Anche se Dio ha già stabilito chi deve salvare e chi no, chi arriverà sino alla fine e chi no. Questo è un altro punto di vista, quello di Dio. Dio ha già stabilito ogni cosa, ma a noi ci ha detto di fare determinate altre cose e le dobbiamo fare, sia se le comprendiamo e sia se non le comprendiamo. In tutte queste cose non c'è niente di così sbagliato, cioè non c'è niente di ingiusto da parte di Dio, capite? Il Dio fa quello che vuole, il Dio fa quello che vuole. Ed ora per parlare della giustizia di Dio vi voglio leggere un altro passaggio che lo leggiamo in Matteo, una parabola, è una parabola questa, la troviamo al capitolo 20 di Matteo, conosciuta come intitolata la parabola dei lavoratori delle diverse ore. Ora noi leggiamo anche questa parabola e poi facciamo le nostre considerazioni anche su questo. Sempre tenendo conto che stiamo parlando di due punti di vista, l'obiettivo e il motivo per cui leggiamo questi passaggi, quindi così voi vi preparate mentalmente, è che dobbiamo considerare anche questa parabola dai due punti di vista, quello dell'uomo e quello di Dio. Capitolo 20 di Matteo, il versetto 1, sta scritto, poiché il regno dei cieli è simile a un padron di casa, il quale in sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. E avendo convenuto coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna ed uscito verso l'ora terza, ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro andate anche voi nella vigna e vi darò quel che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso ed uscito verso l'undicesima ne trovò degli altri in piazza e disse loro perché venne state qui tutto il giorno inoperosi. Essi gli risposero perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro andate anche voi nella vigna. Poi, fatto sì sera, il padron della vigna disse al suo fattore. Chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quei dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno e venuti i primi pensavano di ricevere di più. Ma ricevettero anch'essi un denaro per uno e ricevutolo mormoravano contro il padrone di casa dicendo questi ultimi non hanno fatto che un'ora e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo. Ma egli rispondendo a un di loro disse amico io non ti fo alcun torto. Non convenisti mecco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito far del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Io vi ho letto questa parabola fratelli e sorelle per farvi ragionare su due cose. C'erano i lavoratori che hanno lavorato tutta la giornata, dodici ore. C'erano dei lavoratori i primi con cui il padrone della vigna, leggiamo i primi versetti, si è messo d'accordo e ha convenuto per un denaro al giorno. Si sono messi d'accordo. Lui ha detto mi lavorate tutto il giorno il padrone della vigna e quelli hanno detto noi vogliamo un denaro. E si sono messi d'accordo. Andava bene a tutte e due. Hanno come se avessero firmato un contratto, anche se era verbale, era sempre un contratto. Hanno convenuto con questo accordo. Lavorare dodici ore, lavorare quindi, sopportare il peso di tutto e avrebbero avuto un denaro. Gli andava bene a tutte e due. Al padrone della vigna gli andava bene che loro lavorassero. E a loro andava bene che gli fosse dato un denaro. Ora, quelli andarono a lavorare. Poi vennero altri che lavorarono, chi lavorò un certo numero di ore e chi invece ne lavorò solo una alla fine, quelli dell'undicesima ora. Bene? A questi Dio disse vi darò quello che sarà giusto. Quindi si è riservato a se stesso. Ha riservato a se stesso il padrone della vigna di dare agli altri quello che gli sarebbe parso giusto. Quindi dipende dalla sua volontà. Dipendeva dalla sua esclusiva volontà. Quegli altri hanno detto va bene andiamo a lavorare e accettiamo tutto quello che lui ci darà. Capite? Quindi il punto di vista umano. E il punto di vista di Dio che è il padrone della vigna. Il punto di vista umano lo vediamo dopo. Quando arriva il pagamento prendono tutti un denaro. Sia quelli che hanno lavorato un dodici ore e sia quello che ha lavorato un'ora soltanto in quella giornata. Cioè dal punto di vista umano hanno mormorato, no? C'è il mormorio degli uomini che dicono ehi ma io ho lavorato tutto dodici ore. Lui ha lavorato solo un'ora e ha preso il mio stesso stipendio. Questo mormorio si è sollevato. Ma badate bene dal punto di vista sindacale, no? Che ti dice tu devi essere pagato in base che è il punto di vista umano, no? Tu lavori 8 ore deve essere pagato 8 ore. Quell'altro lavora di più viene pagato di più, lavora di meno deve essere pagato di meno. La paga deve essere equiparata al numero di ore di lavoro. Questo dice il punto di vista umano però il sindacato. I sindacati presentano il punto di vista umano. Infatti hanno mormorato questo. Ma come? Quindi vedete il punto di vista umano a volte può sembrare apparentemente corretto. Cioè logicamente, con la logica umana, 12 ore non sono un'ora. 12 ore vanno pagate più di un'ora. Ma per quanto riguarda invece il Dio, il punto di vista di Dio, può essere anche un altro. Può essere diverso dal punto di vista umano. Quindi noi quando consideriamo determinate cose, dobbiamo fare attenzione a non considerarle in maniera sbagliata solo dal punto di vista umano. Quindi sforziamoci di esaminare anche determinate cose pensando dal punto di vista di Dio, innalzandoci fino al santuario, andando a trovare il Signore dal suo punto di vista, guardando appunto la fine della cosa, guardando sotto altri aspetti le cose che stiamo esaminando, su cui stiamo riflettendo. Perché può darsi che ci siano altri ragionamenti, non solo quello umano. E qui qual era il ragionamento che il Dio ha fatto? Con i primi che hanno lavorato 12 ore, il padrone della vigna ha convenuto, ha firmato il contratto ed ha assolto il suo contratto. Ha contrattato per un denaro, ha ricevuto le ore stabilite di lavoro e ha pagato con un denaro. Ha pagato con quello che ha contrattato. Infatti la leggiamo al versetto 13 dice, amico io non ti faccio alcun torto, non convenisti con me per un denaro, vedi? Ma non ci siamo messi d'accordo per un denaro. Ma se io sono, se Dio è giusto, se il padrone della vigna è giusto, nel senso qui ha applicato una giustizia che riguarda l'accordo preso, va bene? Dove ha sbagliato il padrone della vigna? Cioè io l'errore non lo vedo, capite? Non c'è nessun errore, il Dio ha dato quello che ha convenuto. Perché? Perché Dio quando parla e dice una cosa è quella. Cioè non è che cambia durante il percorso, perché qui stiamo parlando del padrone della vigna, non è che stiamo parlando di un uomo qualunque qua. Il padrone della vigna qui è Dio che chiama al servizio i suoi servitori e li fa lavorare quando e come vuole lui e verso dove vuole lui, capite? Un'ora, un giorno, un anno, dieci anni, quanto vuole lui e la paga qual è? Quella che lui ha stabilito, quella che lui ha convenuto di dare, il premio che lui ha convenuto di dare. Quindi Dio decide se agli incarichi la quantità di ore di lavorare, chi viene chiamato nel campo a lavorare e poi il premio finale. E se il premio è già stabilito, uno non è che può pretendere di più di quello che Dio ha già ordinato, ha già stabilito. A questi qui delle dodici ore, a quelli della prima ora che furono, diciamo, assunti per primi, che hanno mormorato, e Dio gli risponde ma amico, ma io se sono convenuto con te per quella paga, che cosa chiedi di più? Io ti do quello che abbiamo convenuto, addirittura convenuto qui, si sono messi d'accordo addirittura insieme, quindi in questo caso specifico c'è una sorta di accordo che Dio ha portato avanti precisamente come l'accordo, perché Dio ha dato la parola, capite? Non l'ha cambiata né in bene, ma né in male, cioè ha mantenuto quello che lui si era accordato di fare, ma perché Dio opera in questa maniera? Quando dice una parola, quella fa, non è che ne fa un'altra. Quando Dio ha parlato e ha detto qualcosa, è quella che avverrà, non ne avverrà un'altra. Avviene quello, e questo è quello che ci insegna questo passaggio biblico. Gli altri invece ha detto, vi darò quello che mi sembrerà giusto agli altri. Con gli altri non ha neanche contrattato, gli altri erano lì disoccupati, non avevano forza contrattuale, non potevano dire, no dammi un denaro, no, non l'hanno neanche detto, non potevano, erano lì, non avrebbero preso nulla. E ha detto, andiamo a lavorare? No, avranno pensato. Si può pensare anche questo perché è una parabola. È una parabola perché al versetto 1 c'è scritto, poiché il regno dei cieli è simile, guardate bene, quindi io la chiamo parabola per questo, però ci sono dei racconti, adesso apro questa parentesi perché mi è venuto in mente adesso, ci sono dei racconti nelle scritture dove non c'è la parola similitudine, parabola, figura e come che indica uguaglianza tra due, un paragone che indica un paragone, va bene? Quindi qui c'è la parola, è simile ad un padrone di casa, quindi si può dire che è una parabola, ma se noi leggiamo, leggiamo Enrico e Lazzaro, no, che vanno nell'Hades, lì non troviamo niente, nessuna parola che ci faccia capire che si tratti di una parabola o di una similitudine. Così anche, adesso ve ne dico un'altra che forse conoscete un po' di meno, quella di Enrico e Lazzaro l'avete già letto, ma quella del racconto del samaritano, che viene impropriamente chiamata parabola del buon samaritano. Voi dovete sapere che non è una parabola e non viene citato da nessuna parte che era un buon samaritano. Quello è un racconto, il racconto del samaritano. Un giorno parleremo anche dettagliatamente del significato di quel racconto, ma adesso volevo soltanto farvi capire che quando si parla di parabola dobbiamo essere sicuri, dobbiamo andare a vedere se effettivamente è una parabola, il racconto che noi leggiamo, perché altrimenti se non c'è nessuna parola che ci fa comprendere che quel racconto sia una parabola, dobbiamo dire che è un racconto veramente accaduto. Capite la differenza? Dove sta? Che Gesù o gli altri apostoli, i discepoli, possono raccontare qualcosa che è realmente accaduta oppure possono raccontare una parabola. Quindi dobbiamo stare attenti quando leggiamo anche a questo. Ora torniamo alla nostra parabola appunto dei lavoratori delle diverse ore. Quindi a questi ultimi il padrone della vigna ha detto vi darò quello che è giusto. Quindi quando alla fine gli ha dato lo stesso importo che ha dato ai primi, è perché il padrone della vigna come lui stesso dice, perché guardi di malocchio che io sia buono? Cioè lui ha voluto fare un regalo in più a quelli che hanno lavorato, ha voluto dare di più, ma non ha dato di meno ai primi, capite? Perché lo stipendio giusto per quella giornata di lavoro si comprende dalla parabola che era quello lì di un denaro al giorno, cioè lavorando tutte le ore. Se il padrone della vigna ha dato di più agli altri che hanno lavorato meno ore dei primi, è solamente perché il padrone della vigna è stato buono, ha fatto dei regali diciamo, li ha regalati, li ha voluti regalare. Quindi gli altri che hanno preso il loro stipendio non avevano il diritto di guardare con malocchio, dice qui, cioè con un occhio malvagio, la bontà di quel padrone della vigna che ha dato di più agli altri. Vedete? Vi sto dicendo queste cose per farvi comprendere che talvolta il punto di vista dell'uomo può avere le sue ragioni, attenzione, non è che non ha le sue ragioni, ma a noi ci interessa perché quello che poi porta frutto è conoscere qual è il punto di vista di Dio, qual è il punto di vista del padrone della vigna? Non basta conoscere il punto di vista dell'uomo, che può avere le sue ragioni, non indubbiamente per un sindacato questo sarebbe stato impossibile, no? Impossibile, no? Uno quanto lavora, quanto tanto deve prendere. Ma se questo padrone della vigna è buono e dà a quelli che lavorano tanto una cifra e a quelli che lavorano poco gli dà la stessa cifra, ma perché dobbiamo dire che c'è una ingiustizia? Per quale motivo c'è una ingiustizia? Non ci vedo io nessuna ingiustizia nell'operato del padrone della vigna. Ma fratelli, il padrone della terra chi è? Chi è il padrone di tutti gli esseri viventi? Chi è il padrone di tutto l'universo, di ogni uomo e donna e fanciullo? Perché ci può essere una ingiustizia se Dio, ad esempio, fa cadere un aereo e chiama tutti i passeggeri di quell'aereo e un altro aereo invece lo fa arrivare a destinazione. Dov'è l'ingiustizia? Non ce n'è ingiustizia, capite? Se Dio decide di salvarne uno e di perderne un altro, ma dov'è l'ingiustizia? Ma il padrone non può fare quello che è suo, di quello che è suo, quello che vuole? Il vasaio non fa dei vasi, non li fa forse come vuole lui? Perché c'è un'ingiustizia quando fa un vaso di sua proprietà, lo fa a perdizione e invece un altro lo fa come un vaso di misericordia? Dov'è l'ingiustizia? Io non ce la vedo, capite? Ma il Dio delle sue proprietà fa quello che vuole, come ognuno di noi in una certa maniera cerca di fare delle sue proprietà quello che vuole. Quando uno ha 10 euro in tasca, 20 euro, 50 è quello che ha, non li spende come vuole? E allora? Io vengo da te e ti dico, come le hai spesi 10 euro? Ah, ho comprato un chilo di pane, un chilo di patate e una briochina. Io ti posso dire, ah, vedi, hai sprecato i soldi, quella briochina non la dovevi comprare. Ma il proprietario dei soldi sei tu, non puoi fare quello che vuoi tu? Se non vai a chiedere niente agli altri, faccio un esempio, no? Quindi non puoi usarli come vuoi tu. Allora, se tu usi quei soldi come ti pare a te che sono i tuoi, li hai lavorati e sono i tuoi. Ma perché il Dio, se ha lavorato per creare tutto quanto, non può fare del suo creato quello che vuole? Ma chiederà forse egli, chiederà forse egli all'uomo quello che deve fare? E questo lo leggiamo, lo leggiamo in Giobbe, perché rientra perfettamente questo passaggio in quello che stiamo dicendo. Dobbiamo andare in Giobbe, Giobbe 34 al versetto 33. Dovrà forse Dio? Guardate le parole di Eliù, Eliù che parla a Giobbe, che si riteneva giusto, cioè riteneva che era stato messo, diciamo che stava soffrendo ingiustamente praticamente Giobbe. E invece c'erano i suoi motivi che noi ancora oggi leggiamo, che siamo consolati dei motivi. E ora Eliù, che era un giovane, stava ammonendo severamente Giobbe. E tra le parole che Eliù ha detto a Giobbe ci sono anche questi. Al versetto 33. Dovrà forse il Dio rendere la giustizia a modo tuo che tu lo critichi? Cioè, ma Dio deve rendere giustizia come vuole l'uomo, fatemi capire. Può far vivere morire secondo come vuole l'uomo. Ah, io voglio qui, io voglio là, io schiocco le dita e dico Dio fai questo, Dio fai quest'altro. Ma il Dio è al nostro servizio? Non è forse il contrario? Non è forse il contrario che siamo noi uomini, che siamo al servizio di Dio e non Dio al nostro servizio? Qui infatti Eliù ha Giobbe, ha Giobbe, che stiamo parlando di un uomo di Dio, stiamo parlando di un uomo che è il Dio, l'Eterno. Guardate cosa dice l'Eterno di Giobbe. E neanche lui aveva il diritto di lamentarsi davanti a Dio, di criticarlo. L'Eterno dice di Giobbe, hai tu, uno otto di Giobbe, hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male. Dice non ce n'è un altro addirittura nella terra in quel periodo, non c'era un altro che era come Giobbe e viene lodato dallo stesso Eterno. Però quando poi ha sbagliato Giobbe, Dio l'ha ripreso. Infatti dopo che parlò Eliù, dopo gli parla l'Eterno e l'uomo unisce severamente, gli fa comprendere che Giobbe, benché si stesse comportando bene, non poteva pretendere nulla da Dio. Cioè se Gesù ha sofferto c'era un motivo, gloria a Dio perché Gesù ha sofferto ed è anche morto ed ha sparso il suo sangue. Perché così noi per quel sangue siamo stati salvati, i nostri peccati sono stati rimessi, gloria a Dio, vedete, se uno si lamenta come Giobbe, no? Adesso siamo consolati dalle sofferenze di Giobbe. E Giobbe però giustamente, giustamente nel senso, dal suo punto di vista, si lamentava perché sto soffrendo se io mi sono condotto in una certa maniera. Ma il Dio fa quello che vuole, anche con Giobbe. Eliù glielo ricorda con queste parole, Eliù le ha ricordate, gli ha detto, ma dovrà forse il Dio rendere giustizia a modo tuo che tu lo critichi? Cioè, ma Dio viene a chiedere a noi uomini come deve rendere lui giustizia? Ci viene a chiedere a noi, non lo sa lui. Cioè, ma chi è Dio? Forse, guardate, a volte io penso che qualcuno, quando parla di questi cianciatori che ci sono in giro, quando parlano non si rendono conto veramente chi è Dio. Io lo capisco, dalle cose stolte che dico, non si rendono conto della maestà di Dio, della grandezza di Dio, ma Dio può fare quello che vuole lui, lui fa quello che vuole lui, ma che siamo, è alle nostre dipendenze il Dio. Non siamo noi, forse, sue creature, noi che siamo alle sue dipendenze e non il contrario. Mi fanno rabbrividire veramente con quale audacia parlano contro Dio. Ah, ma se Dio crea dei vasi a perdizione è un Dio ingiusto. Ma su quali basi fondano queste parole? Ma se c'è scritto che Dio lo fa, ma chi sono io per modificare quello che Dio fa? Ma se Dio ha scritto che creerà uno degli uomini, no, la bestia è il falso profeta, per andare ad essere gettati nello stagno di fuoco, per portare avanti una parte del suo disegno che lui ha già prestabilito. Ma che faccio io? Mi metto a dire ma Dio è ingiusto se li ha già predestinati alla perdizione. Ma come faccio a dire che Dio è ingiusto? Non posso dirlo, ma il Dio fa quello che vuole. È scritto, no, in romani, il Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Ma una volta che uno dice così, come è successo, come abbiamo letto, quello che hanno convenuto il padrone della vigna con i lavoratori, si hanno convenuto, hanno deciso una certa cosa, è stato stabilito, così il padrone della vigna ha mantenuto l'accordo preso. In questa maniera invece, citando quel passaggio della legge che dice appunto che Dio fa misericordia chi vuole e indura chi vuole. Una volta che Dio ha stabilito da sé, perché più grande di lui non c'è nessuno, fa quello che vuole, egli è il vasaio, ma una volta che dice così, ma non è libero di fare quello che vuole. L'ha detto e lo fa, come è successo col padrone della vigna, ha detto che ha convenuto per un denaro e un denaro è stato, non è uscito fuori, non gli ha dato di meno, gli ha dato quello che aveva convenuto, quello per cui c'era stato un accordo, un pensiero, un contratto stabilito prima, una parola detta prima. Ecco, anche per quanto riguarda la salvezza e la perdizione, il Dio ha già prestabilito ogni cosa, non c'è più niente da modificare. Questo è il punto di vista di Dio, va bene? Non c'è più niente da modificare, Dio ha già stabilito ogni cosa. Ma noi uomini sulla terra, dal nostro punto di vista, per quanto riguarda la predestinazione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il resto che ci dicono le scritture, bene? Cosa ci dicono le scritture? Che dobbiamo esortarci a perseverare nella preghiera, nella santificazione, nello studio della parola, ci dobbiamo ammonire severamente quando diciamo non ci conduciamo correttamente, ci dobbiamo ammonire gli uni gli altri, riprendere, esortare. Questo ci dice, questo riguarda il nostro punto di vista. È per noi, così dobbiamo guardare le cose noi, in questa maniera, e conoscere, conoscere, quindi questo da applicare in pratica, e conoscere dal punto di vista di Dio, conoscere che Dio salva chi vuole lui, capite? Quindi se abbiamo annunziato l'Evangelo a migliaia di persone e se ne è convertita solo una, qual è il problema? Perché Dio ha stabilito che solo quello doveva essere salvato, capite? C'è quello che annuncia l'Evangelo solo a cinque persone e si convertono tutte e cinque. C'è quello che ha parlato a diecimila, centomila persone, se ne converte solo una. E allora qual è il tuo problema? Qual è il problema? E Dio salva chi vuole lui. È già stabilito tutto. Questo dal punto di vista di Dio, capite? Quindi la conoscenza del punto di vista di Dio è diverso da mettere in pratica quello che Dio ci ha ordinato a noi di fare. Ecco quindi spiegate questi famosi misteri, questo mistero che ha, ma se Dio ha predestinato perché io devo annunziare l'Evangelo qua e là? Ma sono tutte chiacchiere per annullare, per annullare, per cercare di annullare la volontà di Dio che è sovrana. Perché noi con la predestinazione stiamo dicendo che Dio è sovrano, è questo che dà fastidio, fratelli e sorelle. Ecco perché viene contrastata la predestinazione. Viene contrastata non perché è ingiusta, non perché è pericolosa, non perché ci fa sedere, anzi noi parliamo della predestinazione e guardate che chi è che esorta i fratelli a santificarsi, a pregare, a leggere, a fare opere buone più di noi, diciamo. Eppure noi crediamo nella predestinazione, la insegniamo, ci crediamo e la insegniamo, ma noi crediamo anche nel resto delle scritture che ci dicono che ci dobbiamo esortare a santificazione e lo facciamo, lo facciamo. Quindi vedete non ci sono giustificazioni perché taluni pensano che predicando la predestinazione ci dobbiamo sedere nel divano e aspettare. No, non è così, perché la conoscenza di quello che Dio fa è una sola conoscenza, cioè la conoscenza è conoscenza. Quello che dobbiamo mettere in pratica invece cos'è? E ci dobbiamo poi rivolgere agli altri passi della scrittura che parlano appunto delle cose a cui che dobbiamo mettere in pratica. Quindi vedete, fratelli, i punti di vista. I punti di vista possono essere di Dio e possono essere quello dell'uomo. Quello dell'uomo può essere giusto, ad esempio dal punto di vista della predestinazione quando viene citato, quando viene citato che tu devi operare determinate queste cose, lì devi sapere qual è il tuo punto di vista e cosa devi fare. Quello è corretto. Invece in altri punti, se ti metti a giudicare Dio, quello che ha fatto Dio, per quale motivo l'ha fatto, che è ingiusto, eh no. Allora quel punto di vista dell'uomo è sbagliato. Così non va più bene, come anche quello di Pietro. Anche se si parla di cose buone, no? Vi ricordo quello del passaggio di Pietro, citato in precedenza, che non voleva che Gesù morisse, non voleva che gli accadesse nulla di male. Ma se si trattava della sua sofferenza, la sua morte, la sua risurrezione, che è la buona novella della salvezza, cioè capite bene, Pietro non ha parlato bene, non ha parlato secondo il senso delle cose di Dio, ma ha parlato del senso delle cose degli uomini. E questo non va bene, non andava bene davanti a Dio. Quindi, fratelli, l'esortazione di oggi è quella, che ho voluto darvi, è quella di considerare determinate cose dai due punti di vista dell'uomo e di Dio. E quello dell'uomo può essere sbagliato, oppure può essere anche giusto. Quello di Dio è sempre giusto, non è mai sbagliato. Quando non lo vediamo, lo dobbiamo cercare, perché sicuramente c'è anche il punto di vista di Dio su determinate cose. Quando coincidono è il nostro punto di vista umano e quello di Dio, lì non ci sono problematiche. Questa era l'esortazione che volevo darvi questa sera. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.